Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Come ogni settimana, prima di iniziare vi ricordo sempre i contatti al quale poterci inviare le vostre segnalazioni. Trovate qui nelle sovraimpressioni il numero WhatsApp e la mail di redazione Vallefoglia a chiocciodarossinitv.it. Potete inviarci messaggi di testo, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure foto e video. Iniziamo ora subito però con la prima notizia di questo Magazine. Alla luce delle nuove esigenze che derivano dall'emergenza Covid-19 per cercare di evitare il sovraffollamento delle strutture ospedaliere, il Presidente dell'Unione Comuni Pian del Bruscolo a Palmirucchielli ha mandato una lettera al nuovo assessore regionale alla salute Filippo Saltamartini. Il contenuto di questa lettera riguarda la richiesta da parte di Palmirucchielli delle potenziamento della Casa della Salute situate in via Pilatorre a Montecchio. La verità questa è una delle più belle strutture delle Marche, una Casa della Salute importante, al servizio come il distretto di Pesaro, la struttura ospedaliera di una comunità. Qui a Montecchio dove c'è appunto la Casa della Salute c'è un bacino di circa 50 mila abitanti. È stato un investimento importante di oltre 2 milioni di euro, una Casa della Salute bellissima, efficiente, importante, appressata dai cittadini di questo territorio, va rafforzata e robustita con altri servizi. Per riassumerla in maniera semplice per far capire ai cittadini tutto quello che non è ospedale uno dovrebbe poterlo trovare qui. Parlo di un rafforzamento della medicina specialistica relativamente alla medicina del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla medicina sportiva perché uno deve andare a Pesaro, a Fano, a Urbino, magari in Romagna quando può trovare un servizio qui. Ecco la terapia del dolore che già in parte è stata fatta, c'è stata una presenza qui, va rafforzata e robustita. Diciamo questo è un luogo di tante imprese, l'Asur ha anche il controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, quindi la medicina del lavoro. Diciamo tutti quei servizi che uno può avere qui sul territorio, tutta quest'area che è oltre 50 mila abitanti con tantissime imprese. Se invece di recarsi a Urbino per uno specialista la trova qui, pensiamo che sia una cosa giusta. Quindi diciamo come Unione dei Comuni, di cui sono Presidente, insistiamo perché le politiche di tutela della salute, le politiche sociali siano gestite insieme, dall'Unione dei Comuni, dall'ambito sociale e la gente percepisca un servizio sempre più di alta qualità. La lettera al nuovo assessore, che spero di avere modo di conoscere, al nuovo Presidente della Giunta regionale, per far capire l'importanza e per mettere a frutto anche questo investimento importante che è stato fatto qui a Montecchio per un bacino di oltre 50 mila abitanti e pensiamo che possa essere ulteriormente rafforzato. Un'ultimissima cosa, anche un potenziamento per quanto riguarda l'orario, lo ha già fatto in precedenza, la richiesta di apertura il sabato mattina qua della Casa della Salute per permettere anche a chi durante la settimana lavora di poter venire a fare le visite. Ma noi l'abbiamo già fatto come Comune di Vallefoglia, i nostri servizi sociali, servizi scolastici, anagrafe, stato civile sono aperti sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno. Se poi bastano un paio d'ore, si terranno anche un paio d'ore, la gente che lavora il sabato mattina ha necessità di poter fare quello che non riesce a fare durante tutta la settimana perché lavora. Quindi se si riesce a fare quanto prima anche l'apertura del sabato mattina e poi il potenziamento del servizio di 118, quella che in tempo si chiamava radiologia che oggi sono tecniche più moderne, però uno deve andare a farla a peso o a fan. Insomma, sono tanti i servizi che sono tutti scritti in questa lettera e io spero di avere delle risposte positive. E nonostante le nuove normative, alcuni ragazzi continuano a presidiare la zona delle campo da calcio adiacente alla chiesa di Montecchio, fino a tardanotte. Il tutto nelle malcontento dei residenti della zona. Vediamo il servizio. Ci troviamo nelle campo da calcetto di fronte alla chiesa di Montecchio, la vedete qua alle mie spalle, dove nei giorni scorsi sono successi alcuni episodi di assembramenti da parte di ragazzi più giovani. Degli episodi che hanno richiamato anche l'attenzione dei residenti, qua anche delle forze dell'ordine, che però hanno deciso di non intervenire. Una situazione molto complessa, viste anche le normative che vietano di fare assembramenti. Ragazzi che si riuniscono qua la sera, negli orari notturni, soprattutto dopo la mezzanotte. Una situazione che però, dopo il decreto che è entrato in vigore nella mezzanotte di venerdì, non dovrebbe più verificarsi, visto che è previsto un coprifuoco. Nonostante la Regione Marche sia in zona gialla, un coprifuoco che dovrà partire dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, salvo comprovate esigenze lavorative e per necessità oppure per motivi di salute. Il tutto nella speranza che anche le soglie di ragazzi più giovani possano rispettare queste normative. Manca pochissimo anche al Natale, una situazione molto complicata, quella in cui si è ritornati per l'emergenza coronavirus. Ora la Regione Marche vive una situazione rispetto a quella passata leggermente migliore, ma bisogna sempre rimanere con la guardia molto molto alzata. Siamo con un residente della zona qua di Montecchio, vicino alla chiesa. Abbiamo segnalato appunto la presenza di questi ragazzi, soprattutto a tarda notte. Un messaggio anche di sensibilizzazione per una fascia di età molto giovane, anche per il periodo in cui stiamo vivendo, quello delle Covid, non solo comunque per gli schiamazzi che sappiamo danno comunque fastidio, nella speranza poi con le nuove normative coprifuoco dalle 22 non dovrebbero più accadere. Speriamo bene, speriamo con questo affare che i ragazzi siano più responsabili e vanno a dormire più prima perché con una cosa così grave ci si mette tutti un po' allarme. Si parla di una fascia di età di ragazzi molto giovani più o meno? Dai 12 ai 15 anni più o meno. E quindi si è una fascia di età molto molto giovane. Secondo lei in ultimissima cosa è più una colpa di responsabilità di ragazzi? A volte si parla anche un po' dell'educazione. C'è un po' di tutto in mezzo all'educazione, non c'è più famiglia, cioè c'è un po' di tutto insieme. Oltre a fare comunque penso rumore lasciano anche magari, abbiamo visto anche un po' di bottiglie in giro qua nel campo. Bravo, bravo. Il custode quasi tutti i giorni viene a riciclare quello che lasciano la sera. Il Comitato di Montellabate e Vallefoglia della Croce Rossi Italiana ha presentato il nuovo corso base per aspiranti volontari. Il corso, con posti limitati e pre-iscrizione obbligatoria, sarà inizialmente online nella speranza però che poi possa essere concluso in presenza. Maggiori dettagli in questo servizio. In questa settimana abbiamo effettuato la presentazione del nuovo corso per diventare volontari. Ci sono stati numerosissimi iscritti, questo ci rende molto felici anche perché in una situazione di pandemia che stiamo vivendo in questo periodo non ce l'aspettavamo. Ci sono ancora pochissimi posti a disposizione e potrete iscrivervi, chi fosse interessato, sul nostro sito www.crimontellabate.it. troverete un pulsante con scritto diventa volontario e cliccando lì potrete registrarvi. Per quanto riguarda la situazione della pandemia siamo nuovamente allerta, lo siamo sempre rimasti in realtà dal periodo di inizio pandemia di marzo ma siamo di nuovo ad altissimi regimi. Quindi quello che chiediamo a tutti è una massima collaborazione e questa massima collaborazione come la si può effettuare? La si può effettuare rispettando le normative il più possibile. Indossate sempre la mascherina come ci viene indicato nei luoghi, nei modi in cui ci viene indicato, lavatevi spesso le mani, rispettate il distanziamento e uscite se ce n'è necessità, ovviamente per lavoro, per situazioni d'urgenza. Per quanto riguarda invece le cose che possono fare i volontari che si iscriveranno a questo corso base, quali sono? I nuovi volontari una volta superato l'esame d'ingresso potranno essere da subito operativi e molto utile a tutta la popolazione. Questo perché abbiamo servizi come quello della consegna farmaci per chi ne ha bisogno. Le nuove richieste sono già partite di nuovo in questo periodo come è successo all'inizio della pandemia, la consegna della spesa. Ci sono tanti servizi da svolgere in totale sicurezza, servizi garantiti anti-Covid che i nuovi volontari potranno effettuare fin da subito. La presentazione del corso di questa settimana è avvenuta online e in base alla curva epidemiologica e alle varie disposizioni ministeriali che usciranno valuteremo di volta in volta come gestire poi l'intero calendario del corso, se in presenza o online. Ovviamente la nostra salute, la vostra salute per noi è prioritaria e quindi il tutto verrà gestito nella massima sicurezza. Per quanto riguarda le corse abbiamo detto che inizialmente è appunto online, immaginando che comunque è un lavoro che comporta anche tanta pratica nella speranza poi pandemia permettendo che possa anche essere magari una minima parte svolta in presenza. Assolutamente, la nostra speranza è proprio questa perché noi ovviamente non ci possiamo discostare da quelle che sono le normative, però se ce ne sarà l'opportunità ci piacerebbe molto svolgere alcune lezioni anche in presenza soprattutto perché per noi che abbiamo bisogno di vedere proprio in faccia la gente con cui lavoriamo perché questo è un lavoro che richiede una grandissima serietà e una grandissima preparazione e per loro che comunque avranno bisogno anche di una parte pratica che è difficilmente gestibile online. Il Comune di Vallefoglia ha comunicato che sono in corso i lavori di esecuzione e di sistemazione di alcuni tratti di marciapiede lungo la strada statale 423 in località Montecchio e Morciola. In particolare a Montecchio l'intervento prevede la riqualificazione di alcuni tratti di marciapiede ammalorati della centrale via Roma sul percorso che va dal cimitero di guerra degli inglesi all'incrocio del centro commerciale di via Piola Torre e consistono nella ristrutturazione e sostituzione dove occorre delle lastre di pietra alberese. I lavori però hanno anche interessato la frazione di Morciola con la realizzazione di una viola posta lungo via nazionale alle fine di organizzare al meglio l'isola ecologica già esistente e per disporre una zona idonea e sicura per la fermata degli autobus eliminando così la sosta dei passeggeri in strada. L'importo complessivo dei lavori finanziati interamente con i fondi di bilancio delle comune sarà di oltre 36 mila euro. Non solo marciapiedi però perché sono in corso di esecuzione i lavori di ampliamente manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione su alcune piazze e parchi comunali. In particolare a Montecchio sono interessati dai lavori Piazza della Repubblica, Piazza dei Quartieri, Parco Volponi e Parco Enrico Berlingher. Il costo complessivo dell'intervento è pari a circa 177 mila euro e tutto il sistema di illuminazione sarà realizzato con nuove lampade a led. Anche in Piazza Rossini a Bottega, che è attualmente interessata dai lavori di ristrutturazione, miglioramento e abbellimento per un importo di circa 90 mila euro, è previsto il rifacimento della pubblica illuminazione per un ulteriore importo di euro 10 mila, dove è previsto sempre un nuovo sistema di illuminazione con tecnologia a led. Dopo le restrizioni emanate dagli ultimi dpcm che hanno costretto le palestre ad una totale chiusura, a Montecchio c'è chi si è organizzato per continuare l'attività motoria e fisica all'aperto e nel rispetto di tutte le normative di sicurezza. Una bellissima nuova iniziativa per dare modo a chi vuole continuare ad allenarsi, nonostante il nuovo dpcm che prevede la chiusura delle palestre, un'attività fisica all'aperto. Sì, grazie anche alla collaborazione del nostro sindaco Palmin Rocchielli ci ha dato questa possibilità di poterci allenare a regola, quindi non fare le cose contro la legge. Ovviamente siccome c'era questo campo qui riusciamo a sfruttare per fare delle attività motorie dell'aria aperta con i ragazzi. Ricordiamo anche magari per chi vuole diciamo iscriversi ma partecipare anche la zona appunto dove lo si fa qua a Montecchio e soprattutto è stata delineata uno spazio dove appunto si fa allenamento rispettando tutte le norme che in questo momento devono essere rispettate. Sì, giusto. Allora noi qui ci troviamo a zona grotte a Montecchio e rimane via Enrico Fermi, numero 16. Cerchiamo di fare un'attività all'aria aperta, in piena sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale, le mascherine e tutto quello che serve per fare le cose in regola. Sono già stati decisi anche i giorni diciamo di allenamento? Sì, i giorni noi faremo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 fino alle 20. Per quanto riguarda invece un po' il momento che stiamo vivendo anche con il tuo passato, la tua esperienza da atleta agonistico, quanto può essere importante, quanto può incidere anche in una serie, in una categoria soprattutto di giovani ragazzi in questo momento che si vedono privati della loro routine, comunque lo sappiamo, il fare sport. Erano stati privati comunque nei mesi di marzo, aprile, inizio maggio e nuovamente adesso a questo stop? Sì, diciamo che la situazione non è facile, anche perché a livello agonistico le varie federazioni sono ferme con i loro atleti, però fare questa attività è anche un modo per svagare tanti ragazzi che hanno un po' delle, diciamo, tra virgolette delle cattive abitudini e reindirizzarli nelle giuste regole. Diciamo, fare sport non è solo una preparazione fisica, ma è anche un modo per incitarli alle giuste regole e al rispetto per gli altri. Sindaco Palmiro Rucchielli, ottavo direi la ringraziata per la disponibilità, l'incontro che avete avuto la scorsa settimana. La gente può continuare ad allenarsi in sicurezza qui a Montecchio, è stato delimitato uno spazio anche con delle righe per garantire la sicurezza e tutto, simulo comunque che la città e i cittadini di Vallefoglia hanno voglia di continuare a fare attività fisica in palestra in questo momento, non gli è permesso. Sì, noi abbiamo messo a disposizione le cinque piste di patinaggio, pallavolo, palacanestro, piste polifunzionali che abbiamo tre a Montecchio e due a Bottega Cappone, nell'insieme sono cinque piste importanti che sono utilizzabili e quindi va messa a disposizione gratuitamente perché possono continuare a fare le loro attività che prima facevano anche uso nelle palestre. Questa collaborazione penso che sia importante, anzi siamo noi che li ringraziamo perché fondamentalmente utilizziamo degli spazi che ci sono e utilizzarli non solo nel periodo estivo con iniziative culturali, iniziative sportive eccetera, ma utilizzarli almeno nei mesi in cui si può fare anche diciamo un'attività sportiva all'aperto. Quindi per noi è importante, siamo felici, contenti insomma di poter mettere questi spazi a disposizione e speriamo che regga il tempo e che si possa utilizzare, non dico tutto l'inverno ma quasi. Nella speranza appunto, lei ha detto tutto l'inverno, speriamo di no per quanto riguarda magari una possibile riapertura delle zone interessate a fare l'attività, anche se sappiamo che può essere molto complicato perché tutto va in base ai contagi. Io spero che se le persone, soprattutto le nuove generazioni, capiscono che non si può scherzare con il Covid, che si muore e quindi bisogna cercare di rispettare le regole. Se si rispettano le regole si può ritornare alle palestre, si può ritornare magari nel periodo, diciamo, delle feste di Natale e di Capodanno, in una situazione, non dico di normalità, perché se no si va verso la chiusura. Se una cosa ci ha insegnato questa vicenda alla pandemia è che si può far tutto però dentro il rispetto rigoloso delle regole, del resto una società democratica non è una società anarchica. Una società anarchica finisce male, invece una società democratica è una società delle regole per poter vivere, campare a lungo. Io questa mattina sono andato a trovare una signora che penso sia una delle più longevi della provincia, dell'Italia, di 107 anni, che ha delle sue regole anche personali e che ha condotto in tutti questi anni. Quindi è una bellezza vedere delle persone che vivono così a lungo perché sono state attente e sono state dentro le regole della convivenza civile. Come ci ha anticipato il sindaco Palmirocchieli nel precedente servizio, nella data di lunedì 2 novembre una cittadina residente a Vallefoglia, Elisa Clini, ha compiuto 107 anni, una cifra record che la rende tra le più longeve in Italia. Noi di Rossini TV siamo entrati in casa di Elisa Clini e abbiamo parlato con il suo figlio, Giuseppe Mulazzani, che ci ha raccontato un po' della storia di sua madre. Siamo con Giuseppe Mulazzani e sua madre Elisa che questa settimana ha compiuto un importante traguardo, 107 anni, una delle più longeve in Italia, è stato anche qua il sindaco Palmirocchieli di Vallefoglia. Un bel traguardo, parla oggi lei che è il figlio. Sì, il 2 novembre è il suo compleanno, quindi ha compiuto 107 anni, quindi un bel traguardo veramente, quindi siamo tutti contenti, abbiamo fatto una piccola festicciola, ma quest'anno con il coronavirus abbiamo cercato di fare solo i figli e bocca, c'eravamo 108 persone per non creare problemi, diciamo, a lei di salute. Quindi, bene, cioè, mia mamma è una donna eccezionale perché per arrivare a questa età quindi, no, è vissuta lei fino a 96 anni da sola e quindi non si è mai lamentata anche se qui la sera restava sola, non aveva problemi perché è sempre stata abbastanza tranquilla, autonoma, diciamo, è da 11 anni che c'è sta signora, la badante Olga, che molto è merito anche suo, è arrivata a questa età di 107 anni, quindi speriamo che ancora prosegua, ho detto con gli ucchielli che dico, va bene, dai, facciamo il record, arriviamo a 150, perlomeno adesso partiamo per i 110. Io vi ringrazio intanto per la disponibilità, per aver fatto entrare Rossini TV con le telecamere dentro casa vostra e una signora che, dicevamo anche in precedenza, è nata nel 1913, quindi periodo di prima guerra mondiale, ha visto la seconda guerra mondiale, ora ci troviamo di fronte ad un periodo alquanto storico comunque, quello della pandemia del coronavirus, quindi possiamo dire che davvero le ha vissute tutte. Sì, lei praticamente ha vissuto due guerre, noi siamo nati, lei si è sposata nel 1939, la prima figlia, mia sorella è del 40, io sono del 42 e mio fratello è del 47, quindi fortunatamente anche noi stiamo tutti bene, quindi ne ha passate la prima guerra mondiale, poi la seconda, lei è nata a Urbino, erano sette fratelli, di cui tre sorelle e quattro maschi, quindi tutti abbastanza longevi. E in data 4 novembre, con la ricorrenza della festa dell'unità d'Italia e la giornata delle forze armate, è stata deposta una corona di alloro al locale monumento dei caduti di Sant'Angelo in Elizzola. Anche se in maniera più sobria e rispettando rigorosamente le norme emanate, l'amministrazione comunale di Vallefoglia ha ritenuto opportuno ricordare la ricorrenza per ringraziare le forze armate e tutti i defunti che hanno dato la propria vita per il paese. La deposizione della corona è stata accompagnata da un trombettista delle Corpo Bandistico Giovanni Santi di Colbordolo di Vallefoglia, con l'esecuzione delle silenze di ordinanza. Sempre in mattinata, sono state altresì deposte altre due corone di alloro, una alle monumento di Montecchio in Piazza della Repubblica e una a Colbordolo in Piazza delle Popolo, dove vengono ricordati tutti i caduti di tutte le guerre. E a seguito del Consiglio Comunale avvenuto lo scorso fine settimana, richiesto espressamente dal centro-destra, con a capo un solo tema, ovvero quello delle biodigestore, noi abbiamo parlato con i consiglieri comunali Nicolini e Brolenghi che hanno espresso il loro disappunto per quanto è emerso dal Consiglio. Nell'ultimo Consiglio del 30 ottobre è stato portato all'ordine del giorno un argomento monotematico che riguardava il biodigestore. Una situazione abbastanza preoccupante per tutti i cittadini di Vallefoglia, specialmente quelli della vallata più vicina a dove presumibilmente si pensa che venga costruito questo biodigestore. Ci siamo fatti un po' da portavoce da parte della cittadinanza per sapere qualcosa di più. Ci viene raccontato perché sono storie che non si sappia nulla ed è impossibile perché esistono dei tavoli politici, degli incontri politici che sono stati fatti con pare cinque sindaci. Alcuni sindaci hanno già preso le distanze da questo progetto e hanno reagito. Anche la cittadinanza è stata avvisata per tempo, mentre non si capisce perché la potenza Ucchielli, qua a Vallefoglia, non sappia nulla. Noi non ci stiamo, noi non ci crediamo. Non vorremmo arrivare al punto di una decisione da parte della provincia e essere nella situazione in cui non poter fare il passo indietro. Questo non vuol dire che il centrodestra non sia d'accordo né che sia d'accordo alla costruzione di questo biodigestore, ma che deve essere comunque sia, ci deve essere una relazione con la popolazione per spiegare che cosa è, che cosa verrà fatto, i pro e i contro. Queste informazioni il nostro sindaco le ha e le ha sicuramente. Non ci crediamo che sia all'oscuro di tutti. Può dire qualsiasi cosa in consiglio, può dirci che siamo aggressivi, ma questa è un'esigenza che la vuole sapere la gente. Noi rappresentiamo la gente di Vallefoglia nel vero senso della parola e ci facciamo da portavoce, ma le risposte non ci vengono mai date e questo ci delude tanto. E dal punto di vista del discorso che i cittadini vogliono sapere è anche nata un'associazione dal nome diversamente per la tutela e la valorizzazione della Vallata delle Foglia, ci sono diversi soci fondatori e anche già diversi iscritti. Questo infatti ci dà una buona parte di ragione, la gente vuole sapere, come dicevo, e questa associazione ha preso la distanza dalla politica, è un'associazione apolitica, però con la curiosità di avere queste benedette informazioni. se c'è già questa mobilitazione da parte della cittadinanza vuol dire che l'argomento è molto importante e andrebbe affrontato il prima possibile, se non altro con dei dialoghi, creare anche dei tavoli di lavoro, sì, con queste associazioni e tutti i gruppi consigliari. Proviamo ad avere un dialogo costruttivo e la trasparenza, tanta trasparenza. In merito alla considerazione legata al nostro modo di fare in Consiglio Comunale, siamo tacciati di arroganza e di non presentare mai nessun progetto. Allora, noi abbiamo nei mesi scorsi chiesto di dirottare dei fondi per l'innovazione e per il lavoro. Loro ci dicono che non si può fare, però possiamo dire che i soldi, ben un milione, ci sono per il teatro, che oggi forse è il teatro di bottega che verrà fatto, ma forse di questo oggi non se ne sente l'esigenza. Il sindaco dice che sono sempre stato una persona corretta e trasparente. Allora, in merito alla trasparenza posso dire che sono parecchi mesi che io ho chiesto all'Unione dei Comuni, il pian del bruscolo di cui lui è presidente, della documentazione in modo ufficiale. Ad oggi non ho ancora ricevuto niente. Quindi questo non è un sintomo di trasparenza. Tra l'altro, oltre a questo, abbiamo spinto noi per avere i consigli comunali online per poterli mettere a disposizione della gente il prima possibile. Solo in questo caso e solamente in questo ultimo caso, oggi è disponibile il consiglio del 30 ottobre. Negli altri casi è sempre stato un dramma per poterli far mettere online sul sito del Comune. Ci sono voluti almeno dieci giorni. Per quanto riguarda la correttezza, il sindaco mi delude. Vorrei che lui spiegasse bene che le bugie che ha raccontato sul tavolo del lavoro e sul tavolo per intercettare i fondi europei, lo dicesse, le dicesse chiaramente, che non ci sono mai stati nel Comune di Vallefogli in questi mesi questi tavoli, che lui ha sbandierato sia a livello ufficiale dentro il Consiglio Comunale assieme alla sua vice sindaca Torcoletti e nei canali televisivi e a mezzo stampa. Per cui questo modo di fare a noi non piace. Non cerchiamo di fare confusione, cerchiamo di fare chiarezza. E questo è uno dei principi fondanti della minoranza, cioè il controllo. Grazie. E adesso concludiamo parlando di sport. Nelle campionate di Serie 2 di pallavolo femminile, nell'ottava giornata, la Megabox Vallefogli ha perso in casa per 3-7-1 contro la Balducci Macerata. Un capo inaspettato per la squadra allenata da Cozzo e Fabio Bonafede, che è comunque riuscita a conservare il secondo posto in classifica, sempre a quota 14 punti, ma in complicità con Ravenne e Soverato. In questo momento a guidare il girone est è sempre Cutrofiano con due punti di vantaggio, visto che anche la capolista ha subito una battuta d'arresto. Nel prossimo turno la Megabox giocherà in trasferta contro la CDA Talmassons. E termina qua questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, come sempre qua su Rossini TV, canale 633 delle digitale terrestre. Vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo, sempre alle ore 19, e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.